Musica Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui fuori dal Museo di Arte Contemporanea. Io ci sono già stata a fine luglio, ma adesso non ho cambiato l'esposizione, quindi ci sono tornata e vi farò vedere prima le vecchie riprese e poi anche quelle che farò oggi. Il museo è gratuito, quindi potete venirci tranquillamente. E vi consiglio anche di fermarvi sulla terrazza dove c'è il bar, almeno per godervi la vista, perché è molto bella, comunque vedrete nel video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, siamo sul terrazzo, c'è un po' di vento, non so quanto si sentirà. Qui se volete c'è una scultura che punta il dito in alto. E come vi dicevo la vista merita, tipo qui c'è l'arbor bridge e se non ci fosse questa bellissima nave da crociera ci sarebbe anche la Sydney Opera House. In ogni caso, se siete a Sydney, ovviamente questa è una tappa obbligata, c'è anche una esposizione permanente, anche quella è consigliata qui. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! Ciao!